Pugilato, kickboxing e Muay Thai per la terza edizione del Fight for Naples, evento di sport e intrattenimento che si svolgerà sabato 10 febbraio a partire da mezzogiorno al Palabarbuto di Fuorigrotta. Ci sarà una parte dedicata al pugilato con dei match interregionali dove si sfideranno 7 atleti campani contro degli atleti delle marche. Ci sarà anche una parte di kickboxing e di Muay Thai con i dilettanti. Naturalmente l'intenzione del promuovere questa tipologia di evento è di dare anche l'opportunità ad atleti dilettanti di poter combattere qui a Napoli nella propria città. La Muay Thai è una disciplina sportiva completa di origini italandese e viene chiamata anche disciplina delle otto armi perché possiamo utilizzare contemporaneamente colpi di braccia, colpi di gomito, di ginocchiate e di gambe. L'iniziativa, organizzata dalla società sportiva Pro Fighting Napoli Club e dall'azienda Mosaico Enterprise, ha il patrocinio del Comune di Napoli. Il nostro cammino verso la capitale del 2026 è proprio diretto in questa direzione, cioè aprirci a tutte quelle che sono soprattutto le realtà e le esperienze territoriali del territorio. Ora è il terzo anno che si va a questa manifestazione, è il primo anno in cui il Comune ci partecipa in modo più significativo mettendo a disposizione quello che è un parazzetto che è tutto sommato purtroppo l'unico al momento parazzetto della città. E quindi è molto importante, soprattutto se riusciremo a coinvolgere tanti ragazzi, tanti spettatori, per dare il senso dello sport, come dicevo, ampio. Un senso quindi non soltanto limitato al professionismo, ma limitato comunque sicuramente anche ai ragazzi, soprattutto come coinvolgimento, ecco, anche emozionale, oltre che sportivo. Grazie.